Preoccupa la recrudescenza dei attentati intimidatori che negli ultimi due giorni sembrano sconvolgere la quiete dei panificatori gelesi. Ieri, mani sconosciute, hanno sparato tre colpi di pistola all'indirizzo della vetrina del panificio L'Arte del Pane di via Settefarine. Sull'episodio, indagini febbrili sono state avviate dai carabinieri. E della scorsa notte, un altro avvertimento a colpi di arma da fuoco. Intorno a Luna, in corso salvatore Aldisio, i gnoti hanno sparato quattro colpi alla saracinesca del panificio Ventura. Sul posto per i rilievi si sono portati gli agenti della scientifica del locale commissariato. E riscoppiata la guerra del prezzo del pane, già era accaduto anni addietro. Tra il 2012 e il 2014 furono cinque le attività prese di mira dai malviventi, fatti delittuosi proprio all'indirizzo di panificatori locali, anche con incendi dolosi. Nel 2012 la categoria dei panificatori si era data a battaglia, dividendosi tra chi voleva il prezzo pieno e chi ne rivendicava. La liberalizzazione. Uno scontro professionale esploso tra i 55 fornai gelesi. Per battere la concorrenza alcuni avevano portato la tariffa da 2,50 euro al chilo a 1 euro, ad adeguarsi alla ribasso pur lavorando in perdita col paventato rischio di dover richiudere l'attività. E quando si raggiunse l'intesa che riportò la tariffa al valore massimo, si verificarono le pistolettate contro alcune attività. La pagina della cronaca nera a Gela fa registrare anche un incendio doloso è stato commesso la scorsa notte in via Ruggero VII, angolo via Recanati. Le fiamme hanno distrutto una baracca in ferro per la vendita della frutta e gli stessi prodotti conservati con dei teloni. La struttura è di un 24enne del luogo. Il fuoco ha attaccato anche una palma su cui poggiava la baracca. In questo caso le indagini sono affidate ai carabinieri. Il fuoco ha attaccato anche una baracca.